Ciao a tutti, sono Rocco Cavoto, agronomo Iara per il Centro e Sud Italia. Vi ricordo solamente di iscrivervi al nostro canale YouTube, attivare le notifiche e lasciare qualche commento in modo da rimanere sempre aggiornati sulle nostre attività. Oggi sono in Sicilia, a Vittoria, in provincia di Ragusa. Sono in questa coltivazione, questo impianto di uva da tavola sotto copertura. La varietà è Vittoria, appunto, e stiamo utilizzando delle strategie di nutrizione per favorire lo sviluppo dei grappoli e degli acini. Questi grappoli sono stati sottoposti a quella operazione che possiamo definire di tipo di sgrappolamento, eliminazione di una certa quantità di acini presenti per dare soprattutto spazio agli acini migliori in modo che si possano sviluppare in maniera più adeguata e quindi in maniera meno serrata. Invece, nei prossimi giorni sarà effettuata un'altra operazione che consiste nell'eliminare questi acini più piccoli, quindi che non sono adeguati ovviamente per la produzione, e favorire quindi lo sviluppo dell'acino e del grappolo nella sua totalità. Che cosa abbiamo utilizzato? Abbiamo utilizzato iaravita Biotrack nella fase di grappoli separati, 3 litri per ettaro. Abbiamo ripetuto questa applicazione ad inizio a legagione, quindi iaravita Biotrack perché ha soprattutto biopromotori all'interno una serie di sostanze che promuovono lo sviluppo del grappolo, in particolare l'allungamento del rachite per avere ovviamente un grappolo di adeguate dimensioni, di adeguata lunghezza ed evitare anche dei fenomeni di difformità o delle problematiche di natura fisiologica. Poi abbiamo utilizzato iaravita Caltrack in fertilizzazione a 10 litri per ettaro e abbiamo messo a punto una nuova strategia che riguarda l'utilizzo invece di iaravita Bionue, sostanze umiche, APH acido più microelementi zinco e manganese, però li abbiamo adoperati a livello fogliare, quindi in applicazione fogliare. Per quale motivo? Perché per mantenere una maggiore attività fotosintetica nella pianta, soprattutto con queste temperature molto alte, la pianta riesce ad avere una maggior produzione di fotosintetati diretti verso il frutto, quindi verso gli acini, e anche un maggiore assorbimento di acqua che viene appunto assorbita dagli acini stessi a livello in particolare del vacuolo e ovviamente gli acini in questo modo vanno ad ingrossarsi. Quindi come potete vedere questa impianta ha una produzione molto buona e una bella carica dei frutti.